Quella che vedete è un'illustrazione natalizia creata utilizzando molte delle tecniche viste finora. Analizziamo insieme come sono stati creati gli oggetti che compongono questa illustrazione. Iniziamo quindi disattivando i vari livelli. Ad esempio io ho messo uno sfondo scuro, ma posso anche visualizzare l'illustrazione su un fondo chiaro. Chiaramente il fondo scuro mi serve per evidenziare gli effetti di trasparenza applicati all'interno della palla di vetro. Disattiviamo tutti quanti i livelli e incominciamo. Iniziamo ad esempio con la base. Questa base va a simulare una base in legno. Quindi oltre alla sagoma dell'oggetto della base, quello che ho voluto rendere era anche un effetto legno. Chiaramente abbiamo visto diversi modi per trattare queste cose. Avrei potuto utilizzare dei pennelli oppure utilizzare degli effetti della galleria filtri di Photoshop. In questo caso, quasi casualmente, utilizzando l'effetto 3D ho ottenuto questo effetto. Come? Nelle varie opzioni, attiviamo l'anteprima, oltre alla possibilità di cambiare la posizione delle luci e modificarle, abbiamo anche il numero di passaggi di fusione. Ovvero il numero di passaggi che determinerà una resa più uniforme, quindi una sorta di tono continuo sull'immagine che stiamo creando. Aumentandoli fino ad un massimo di 256 passaggi, l'immagine risulterà molto morbida, quindi molto liscia. Ovviamente più sarà alto il numero di passaggi e più sarà alta la complessità dell'oggetto. Questo inciderà in maniera notevole sui tempi di ridisegno di Illustrator e soprattutto sul peso finale del file. Riducendo quindi il numero di passaggi a 10, oltre a ridurre la complessità dell'oggetto, abbiamo un effetto particolare, ovvero sono molto più evidenti i passaggi di colore. E quindi vado a simulare in qualche modo l'effetto del legno, come se fossero le venature del legno intagliato. Clicchiamo su OK e andiamo avanti. Con la stessa tecnica ho creato il fondo di neve. Andiamo sul pannello degli effetti, rivoluzione 3D, e anche qui il gioco è stato quello di modificare la posizione delle luci, per fare in modo che su un fondo bianco si evidenziassero in maniera molto leggera le ombre. È sufficiente, vedete, spostare una luce per intensificare o per ridurre l'effetto delle ombre. Oltre a questo ho dovuto creare una maschera per seguire il contorno della sfera di vetro. E per farlo ho utilizzato una maschera di opacità, come vedete. Oltre ad averla invertita, ho anche attivato l'opzione ritaglia. In questo modo, oltre a intervenire sull'opacità, sono intervenuto anche sulla forma della maschera. Vediamo adesso come ho creato il pino. Chiaramente questa illustrazione non ha grosse pretese in termini di resa fotorealistica, perché è una stilizzazione, e quindi anche per creare questa forma mi sono limitato ad applicare un effetto 3D. Disattiviamolo un attimo per vedere meglio. Ho creato quindi la sagoma delle fronde e la sagoma del tronco. Cambiando poi colore, ho ottenuto un oggetto tridimensionale con due colori, quindi il verde delle fronde e il marrone del tronco. In più, sulle fronde, per evitare di doverle disegnare manualmente, ho creato un tracciato molto netto, al quale poi ho applicato l'effetto di stilizzazione Angoli arrotondati. Andiamo avanti e vediamo l'oggetto forse più complesso, cioè il pupazzo di neve. Questa è la composizione di più oggetti. Ci sono alcune pennellate, come vedete. Questi sono dei pennelli applicati ad un semplice tracciato. Ci sono degli oggetti 3D per fare il naso, fare gli occhi e per fare il cappello natalizio, oltre che per la sagoma del corpo. Chiudiamo. L'intervento più grosso è stato fatto sulla sfera, in quanto avevo diverse problematiche, cioè quella di rendere in qualche modo lo spessore del vetro e riportare tutti gli effetti di luminosità e trasparenza. Quindi, come notate, è un oggetto molto complesso, costituito da una base di oggetto 3D, quindi la base della sfera è costituita da un semicerchio rivoluzionato intorno ad un asse, così come abbiamo visto nelle altre lezioni. E anche in questo caso il posizionamento delle luci è fondamentale. Oltre a questo ho applicato una opacità del 50% proprio per rendere la trasparenza e poi ho sommato altri effetti. Ad esempio ho sommato un altro oggetto 3D con un'opacità e un metodo di fusione sovrapponi oltre ad avere un bagliore interno. Questa volta per il bagliore interno ho utilizzato un'opacità al 100%, una sfocatura molto ampia e invece di utilizzarlo sul bordo l'ho utilizzato a partire dal centro. Clicchiamo OK. Ho aggiunto poi un'ellisse riempita con il bianco alla quale ho applicato un contorno sfocato e poi ho fatto dissolvere a trasparente utilizzando le maschere di opacità. In questo caso avrei potuto usare direttamente una sfumatura che da bianco andasse a trasparente. Ma vi ricordo che questa funzionalità è stata introdotta nella versione di Illustrator CS4. Annulliamo e andiamo avanti. Per dare le ombre ho aggiunto un altro livello sul quale ho semplicemente creato un'ellisse riempita di blu, colore molto scuro rispetto all'azzurro del vetro, sfocato, sempre con il contorno sfocatura, applicato con opacità al 100% e metodo di fusione moltiplica. In più, come per la sfera, ho utilizzato una maschera di opacità. Andiamo ancora avanti e vediamo come sono stati applicati i fiocchi di neve. Questa è una tecnica molto interessante perché utilizza uno strumento estremamente creativo come la bomboletta simboli. Ho creato un simbolo che rappresentasse il fiocco di neve dopodiché utilizzando lo strumento bomboletta simboli l'ho disperso fino a coprire l'area interessata e poi con gli strumenti contenuti nello strumento bomboletta simboli ho modificato, ad esempio, la dimensione oppure l'opacità. Modificando l'opacità in questo modo otteniamo piani di messa a fuoco diverse. È come se la neve in primo piano fosse più opaca e la neve più in sfondo fosse più trasparente quindi è come se fosse più lontana rispetto all'inquadratura principale. Eliminiamo e riposizioniamo il gruppo nella sua posizione originale. Andando avanti ho aggiunto un ulteriore livello dove vado a simulare la riflessione di una finestra sulla sfera e questa è un'altra simbologia molto tipica delle illustrazioni di questo tipo dove si simula la luce che filtra attraverso una finestra. Infine ho aggiunto delle ombre sulla base della palla in vetro e per farlo ho utilizzato come al solito delle forme molto semplici alle quali ho applicato un contorno sfocato ho modificato l'opacità e soprattutto il metodo di fusione. L'ho fatto sia per la base in legno che per la palla in vetro come vedete. Infine ho aggiunto il testo e nel caso lo sfondo. Bene, questo esempio serve per dimostrare come per ottenere illustrazioni io ritengo che questa sia un'illustrazione semplice ma anche per ottenere illustrazioni più complesse si parte sempre dalle tecniche che abbiamo visto fino adesso. Il trucco, se così possiamo definirlo è quello di non fermarsi mai alla prima proposta che ci dà il programma ovvero se applichiamo l'effetto 3D non fermiamoci alle impostazioni di default ma cerchiamo, come abbiamo visto di modificare le luci. Se utilizziamo un effetto di sfocatura non fermiamoci soltanto all'utilizzo per il quale è stato previsto ma magari proviamo a cambiare il metodo di fusione proviamo a cambiare l'intensità della sfocatura eccetera eccetera. E' proprio in queste cose che si nascondono i trucchi che fanno poi la differenza tra un utilizzo di base e un utilizzo avanzato di illustrator.